Buongiorno, siamo nel laboratorio di acconciatura di ABF Bergamo e come potete vedere ricorda un po' il salone di acconciatura di un parrucchiere. Abbiamo la nostra destra di lavatesta con i ragazzi che si stanno preparando lavando la testa modello per poi realizzare il taglio. Nello specifico oggi facciamo un taglio in forma piena, vuol dire che i capelli devono arrivare tutti sulla stessa linea, perciò sono tutti della stessa lunghezza. I ragazzi prendono le ciocche guida, come vedete, si creano il perimetro di base del taglio e a seguire prenderanno delle ciocche molto sottili per andare a realizzare nel modo più preciso possibile la forma del taglio.